In questi ultimi tempi si fa un gran parlare del marchio della bestia, cioè quello che è descritto nella Bibbia come il numero 666, che tutti gli esseri umani dovranno portare o sulla fronte o sulla mano destra. Questo è descritto in Apocalisse, quando dice che nessuno potrà comprare o vendere se non chi ha il marchio della bestia, sulla fronte o sulla mano destra. E questo marchio corrisponde ad un numero e il suo numero è 666. Quindi è acclarato che il numero 666 è il numero dell'Anticristo. E ripeto, questo sarà portato da tutti gli esseri umani sulla mano destra o sulla fronte negli ultimi tempi per poter comprare o vendere qualsiasi cosa. Ma forse non tutti sanno che noi già usiamo il marchio della bestia per comprare o vendere e lo usiamo tutti già da un bel po' di anni. Infatti, su tutti i prodotti che acquistiamo, c'è il codice a barre conosciuto oramai da tutti quanti. Questo codice a barre contiene una serie di linee e ogni linea corrisponde ad un numero e nell'insieme formano la combinazione del prodotto che stiamo acquistando. Se però prendete un qualsiasi prodotto che avete in casa e guardate il codice a barre, noterete che ha tre linee, tre doppie linee più lunghe di tutte le altre. Si tratta della prima linea, dell'ultima linea e della linea centrale. Bene, queste tre linee corrispondono esattamente al numero 6. Di conseguenza, lette in maniera sequenziale, otteniamo il 666. Questo significa che già stiamo usando il marchio della bestia per comprare o vendere. L'unica cosa che ci si aspetta adesso è l'evoluzione di questo marchio che, come ho già detto, sarà portato sulla mano destra o sulla fronte. E questo sta già avvenendo con i microchip che dovremmo avere tutti quanti nella mano destra o sulla fronte. Questo microchip manderà i nostri dati, tutto quello che acquistiamo, compriamo, vendiamo, tutto quello che facciamo con la nostra contabilità, il nostro conto in banca, se ne abbiamo uno, anche il nostro stato di salute, la posizione geografica in cui ci troviamo, verrà trasmessa ad un unico computer centrale che avrà tutti i nostri dati a disposizione. C'è da dire che, essendo questo microchip anche collegato al corpo umano di quella precisa persona, attraverso un compito biometrico, cioè riconoscerà il DNA della persona che lo porta, questo microchip per questo motivo non potrà essere tolto perché appena verrà estratto sarà diramato subito un allarme e subito ci verranno a cercare per potercelo reimpiantare e quasi sicuramente per subire una penalità per aver tentato di estrarre il microchip. Quindi siamo già dell'epoca dell'anticristo già da molti anni usiamo il mark della bestia ma forse non tutti sapevano questo.